Faccio parte di un gruppo, cioè la Luce di Maria. Per me è una grande gioia pregare con questo gruppo. Ringrazio sempre Gesù e la Madonina che abbiamo fatto conoscere Paolo e che ci fa pregare tutte le sere e ci dedica tanto tempo per noi. Questa regina la voglio dedicare al Santo Padre Papa Francesco, per Papa Benedetto XVI, per Don Angelo De Donatis e per i sacerdoti di tutto il mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come un cielo così in terra. Dotti so di nostro pane quotidiano e metti a noi i nostri debiti, come noi facciamo i nostri debitori, i nostri due e tre stagioni vogliamoci da male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo Signore, Gesù. Tata Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, addetto nell'oro della morte, morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, addetto nell'oro della morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, addetto nell'oro della morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, addetto nell'oro della morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, addetto nell'oro della morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, addetto nell'oro della morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, addetto nell'oro della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, addetto nell'oro della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, addetto nell'oro della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo Signore, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, addetto nell'oro della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen Io insieme ai bambini della luce di Maria Preghiamo per lei e per le sue intenzioni in sera Chiediamo a lei la benedizione di Dio Ciao Papà Francesco, io e la mia sorellina Ti vogliamo tanto bene Anche a Gesù e la Madonnina E Gesù bambino, ti mandiamo un grandissimo bacio Mua! Mua! Mua!